Benvenuto anche Andrea Masciangelo che naturalmente è un direttore generale che deve coordinare parecchie cose. Non è facile ripartire quasi da zero Andrea? Sicuramente non è facile ma c'è tanta voglia di lavorare, sono orgoglioso di far parte di questa nuova società ringrazio tutti, in particolare l'amico presidente Mergiotti che mi ha coinvolto in questa avventura con un ruolo sicuramente importante e delicato però c'è voglia di lavorare con umiltà, con rispetto verso tutti cercheremo di, già ci siamo messi negli ultimi giorni al lavoro dalla mattina alla sera lavoriamo 24 ore su 24 per cercare di ottenere il meglio, è una strada lunga, difficile ma abbiamo tanta voglia di arrivare. Abruzzese Doc, anche perché tante tappe nella nostra regione, arrivare chiedi che segnifica sul piano personale? Fa parte di un percorso, nel primo colloquio ho avuto sia con la società adesso anche con lo staff l'ho detto, ho deciso un po' di anni fa di prendere questa strada proprio come lavoro quindi sono una persona che in silenzio da tutto se stesso, quando si pone un obiettivo cerca di raggiungerlo Chiedi per me è una tappa molto importante, come ho detto prima, in un ruolo sicuramente delicato perché chiaramente il direttore generale è quello che deve far funzionare tutta la macchina abbiamo trovato una situazione sicuramente non facile dal problema dello stadio Angelini alle strutture però ripeto, secondo me con il silenzio, con il lavoro, con l'umiltà e il rispetto verso di tutti sono gli argomenti principali per poter creare qualcosa di importante e soprattutto duraturo. Consulente tecnico, l'ultima domanda, ma naturalmente c'è un legame diretto con Tony Annotti. Abbiamo condiviso questa figura, il consulente mercato di Annotti Tone, dove già aveva bozzato un lavoro visto i tempi stretti, comunque abbiamo dato fiducia a questo lavoro, per noi è un lavoro ottimo e quindi continueremo a dare fiducia a lui che insieme al mister in questi giorni lavorano 24 ore su 24 per allestire una rosa sicuramente buona, non è il primo obiettivo che ci poniamo perché quest'anno dobbiamo assestarci, soprattutto noi a Chieti vogliamo creare una società che duri nel tempo l'Abruzzo lo conosciamo tutte le difficoltà, Tolto Teramo tra Giulianova e altre piazze si è sempre i punti interrogativi, vediamo oggi quello che succede nella mia città nativa che è Francavilla quindi noi il primo obiettivo che ci siamo posti quando ci siamo seduti dal tavolo è creare una società che duri nel tempo, è una società solida, seria e che rispetti tutte le regole che ruotano intorno al calcio.